Esercitava abusivamente in un locale ad Afragola, Saraceresca e Bassate, l'attività di parrucchiere. Un ventennio incurante dei provvedimenti restrittivi sugli spostamenti connessi all'emergenza sanitaria Covid-19 è stato scoperto dal gruppo della Guardia di Finanza di Fratta Maggiore. Le fiamme gialle al momento dell'accesso nell'esercizio commerciale, oltre a riscontrare la presenza di un cliente, hanno verificato l'assenza dei requisiti igienico-sanitari e di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività. Così sia il parrucchiere abusivo che il cliente sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dall'autorità. Il titolare dell'attività abusiva è stato poi denunciato anche per le violazioni previste dalla normativa in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza su luoghi di lavoro. L'immobile è stato sottoposto a sequestro, così come tutte le attrezzature professionali per l'esercizio dell'attività.